ciao ragazzi del video secondo voi cosa c'è in questo tubo è in questo tubo qua cosa ci sarà in questo tubo cosa ci sarà lo sai tu lo sai tu lo sai tu beh insomma adesso lo andremo a unboxare così di non soppre no non rompiamolo subito allora c'è diverso scotch qua vicino al tappo era un po che l'aspettavo arrivato it's a pepe town pepe town pepe town the houses and pepe people everything is ugly up close i just need to escape from here i bought a ticket for ionosphere life is strange reversing time to rearrange it's not easy to decide what is wrong and what is right just need to escape from here i bought a ticket for ionosphere i'm going away i say goodbye to kajia bay i'm going away i say goodbye to kajia bay ecco questa qui è una tela una tela plastificata che ritrae diversi momenti del primo life is strange e devo dire che l'avevo vista computer devo dire che è molto bello adesso che lo vedo qua sì forse alcune cose potrebbero essere definite meglio però vi dico che in generale a me piace molto piace molto adesso vedrò dove metterlo molto 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 carino e penso che sia una cosa per gli appassionati di life is strange che possa piacere ecco ciao 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 ciao